What's on? What's on? Cosa succede in Piemonte? Tutto, ma proprio tutto, dalla voce dei protagonisti. What's on? Ben ritrovati a What's on, rubrica di appuntamenti e spettacoli in Piemonte, in studio Elena Pelissetti. Alle 17 nella cappella di Sant'Uberto della reggia di Venaria Reale, Giovanni Morelli dialoga con Marco De Vecchi nell'incontro alberi e uomini dall'albero biologico all'albero culturale, per il ciclo Changing Landscape, ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria sulla venaria.it. Alle 18 al Circolo dei lettori di Torino, Gaviere Proglio racconta i fatti di Genova, edito da Donzelli con il giornalista Timoti Ormezzano, in collegamento a Alessandro Portelli. E alle 18.30 al Polo del Novecento a Torino, incontro con Laura De Colli, presidente della Festa del Cinema di Roma e presidente del Sindacato Nazionale dei Critici Cinematografici ed Eleonora Marangoni, autrice del libro, e siccome lei è edito da Feltrinelli, l'appuntamento chiude la rassegna Noi vitti siamo fatte così. E alle 21 al Piccolo Teatro Comico, incontro con gli sceneggiatori Roberto Gandus e Antonio Tentori, sul tema tra cinema e letteratura, modera il direttore di Siu Sound Film Festival, Carlo Griseri. Questa era l'ultima notizia, grazie per l'ascolto in regia a Rosario Perez. What's On? What's On, in Piemonte. What's On? Lo trovi anche su zipnews.it